Abbiamo fatto un'operazione straordinaria, ha detto il sindaco di Fano Massimo Seri, che ci tiene a ricordare da dove è partito. Ci siamo insediati il 24 giugno scorso, ha precisato, e pochi giorni dopo abbiamo subito un taglio di 2 milioni e 600 mila euro nel 2015. Poi abbiamo ricominciato con una differenza di minore entrate per 5 milioni e 100 mila euro, tagli che derivano dal distacco di Marotta, dalla legge di stabilità e da minori trasferimenti per il sociale per 1 milione e 700 mila euro. Una missione, ha detto Seri, quasi impossibile da gestire. Siamo entrate col bistori, qui ogni assessore ha fatto un lavoro miticoloso e siamo riusciti a garantire, a non chiudere i servizi, ma non solo, anche il fondo di solidarietà che lo scorso anno era di 50 mila euro, all'inizio non eravamo in grado di garantire neanche un euro. Bene, siamo saliti a 280 mila euro. Il bilancio preventivo presentato questa mattina in municipio è anche il frutto di un lavoro di sinergie e confronto con le organizzazioni sindacali. Dopo aver precisato questa collaborazione, il primo cittadino ha annunciato l'arrivo di nuove risorse. Abbiamo fatto un'impostazione che tra fine anno e giugno del 2016, in questa città, se anche un pizzico di fortuna mi assiste, arriveranno oltre 75 milioni di euro extra, stiamo riuscendo, perché non c'è ancora la certezza, ad aumentare di altri 8 milioni di euro. L'assessore al bilancio, Carla Cecchetelli, ha ribadito invece che non sono stati aumentati i tributi locali, in cui rientrano l'Imu, la Tasi, la tassa di occupazione di suolo pubblico e l'imposta di soggiorno per gli operatori economici. È stato riconfermato inoltre un fondo di 100 mila euro per la detrazione Tasi, per coloro che presenteranno un modello ISEE entro il prossimo 30 settembre, inferiore a 12 mila euro. Siamo riusciti a garantire tutti i servizi per le persone meno abbienti. Un altro risultato è stato ottenuto per il miglior utilizzo del fondo anticrisi, perché con la disponibilità di ISEE SPA di mettere a disposizione del Comune di Fano una cifra di 200 mila euro per quanto riguarda la riduzione della Tari e del servizio idrico, ci ha permesso di utilizzare il nostro fondo anticrisi di 80 mila euro, di cui 30 mila, per la borsa e lavoro. Borsa e lavoro che verranno erogate su base di un progetto, di un bando che sarà successivamente concordato per coloro che sono disoccupati, quindi quarantenni, cinquantenni disoccupati che non possono accedere ad altre forme di sostegno.